Adesso tocca a me! Mi prenderò i tuoi dispositivi, cercherò i frammenti da solo! Scordate lo Shadow! So di cosa sei capace e non voglio correre alcun rischio! Nine e tutti gli altri sono reali! Perciò se davvero vuoi prenderti i miei dispositivi, dovrai passare su... Ma insomma, potevi almeno lasciarmi finire di parlare! Eccone uno! Ne mancano tre! Se lo arrivo indietro, vieni a Pentamon! Finché ci sarò io, avrai sempre un alineo! Due e tre! Due e tre!